ci deve essere qualche strano meccanismo nel mio cervello che fa sì che quando ricevo una notizia troppo complessa oppure troppo grossa da digerire tendo puntualmente a dimenticarmene completamente che cosa è successo che qualche giorno fa mentre stavo facendo colazione stavo leggendo un bollettino microsoft in cui venivano riportate delle novità molto ma molto importanti per quanto riguarda windows 11 ho letto accuratamente l'elenco di tutte quante queste novità salvo poi finire assieme al caffè latte di ricordarmi che siano mai esistite fino a quando proprio questa mattina e sempre facendo colazione mentre ero con il pezzo di pandoro in mano e il caffè latte nell'altra ho letto una rivista di settore americana che riportava in maniera più succinta la stessa notizia e solo allora ho realizzato che effettivamente doveva essere vera ma facciamo un passo indietro e andiamo a cercare di capire di che diamine sto parlando allora ti senti pronto iniziamo ebbene questo video come dicevo in apertura vuole essere la dimostrazione pratica del fatto che il pandoro associato al caffè latte al mattino va in conflitto e genera un errore irreversibile con le notizie del giorno e soprattutto con il cervello almeno nel mio caso ma che cosa è successo all'atto pratico è successo che il 15 dicembre del 2023 cioè pochi giorni fa nel momento in cui sto registrando direttamente sul sito microsoft.com mi sono imbattuto in questo bollettino che recita testualmente funzionalità deprecate per il client e come possiamo vedere si riferisce sia a windows 11 che a windows 10 che cosa sono le funzionalità deprecate lo possiamo capire continuando a leggere lo stesso articolo infatti viene ribadito che le funzionalità deprecate sono quelle obsolete che verranno rimosse dalle prossime edizioni di windows 11 e qualora ce ne dovessero essere anche di windows 10 a seguire possiamo vedere un elenco molto lungo perché si va molto a ritroso nel tempo e nei mesi di varie funzionalità che mai microsoft ha deciso di rimuovere in particolar modo quelle che verranno rimosse in futuro partono più o meno da giugno agosto del 2023 quello che tuttavia mi ha fatto sobbalzare quando ho riletto l'articolo però questa volta su una rivista di settore statunitense che riporta la stessa notizia in maniera come puoi vedere molto più succinta sono stati i nomi di alcune funzionalità a cui io e probabilmente anche tu sono molto legato in ambito windows naturalmente alla stessa stregua dei siti americani anche alcuni siti italiani si sono occupati della notizia come ad esempio tom's hardware la nota rivista di settore che ha riportato in un articolo la stessa descrizione succinta di quello che avverrà nelle prossime edizioni di windows naturalmente nella descrizione di questo video ti lascerò sia un link al bollettino microsoft nel caso in cui tu voglia leggere per esteso tutta quanta la notizia sia a questo articolo di tom's hardware se hai piacere invece di leggere un riassunto ma non perdiamo altro tempo e gettiamoci direttamente nel vivo andando a vedere quali sono le funzionalità di windows che verranno rimosse nelle prossime versioni non credo di essere in grado di contare il numero di volte in cui nel completo silenzio del mio studio mentre stavo installando windows su qualche pc sono sobbalzato a un metro da terra quando qualcuno alle mie spalle improvvisamente ha urlato ciao sono cortana e sono qui per aiutarti ebbene cortana ha ricevuto credo proprio per questo la maledizione in eterno da parte di tutti quanti i tecnici informatici miei colleghi ma l'ora della vendetta è giunta perché cortana sarà la prima delle funzionalità a scomparire completamente da windows 10 e windows 11 attenzione però perché già adesso se andiamo ad attivare il pulsante cortana sui nostri computer riceviamo questo messaggio cortana in windows come app autonoma e deprecata quindi di fatto pur essendo fisicamente presente in tutte le ultime versioni di windows ha smesso definitivamente di funzionare con buona pace di tutti quanti i tecnici informatici penso che il motivo per cui cortana sta per scomparire dalla faccia della terra sia già chiaro a tutti ed è naturalmente il fatto che microsoft sta facendo carte false per fare arrivare anche in europa il suo amatissimo copilot che come abbiamo già detto in alcuni video precedenti sta ricevendo un po di ostracismo dal punto di vista legale perché attualmente non è ancora conforme alla normativa europea ma il programma che davvero mi ha fatto scendere un lacrimone quando ho saputo che verrà rimosso è il mio adorato amatissimo wordpad sì lo so praticamente ero rimasto solamente io ad utilizzare questo simpaticissimo programma che però devo dire che con la sua presenza costante su tutti quanti i sistemi era un salvavita nel momento in cui avevo bisogno di editare un file naturalmente il motivo per cui scomparirà invece wordpad è il fatto che non è un mistero che microsoft sta spingendo tantissimo per farci lavorare online infatti come abbiamo visto in un video precedente ha reso disponibile gratuitamente microsoft office a patto che se ne usi la versione web quindi ciao ciao wordpad devo dire che invece non proverò un sommo dispiacere per i prossimi due elementi importanti di questa nutritissima lista che andranno a scomparire che sono nella fattispecie il nostro programma mail cioè posta di windows che francamente ho sempre ritenuto essere il peggior client di posta mai visto in circolazione e anche l'app calendar cioè il calendario di windows che per quella che è la mia esperienza non ho mai visto un singolo utente utilizzare ultima delle funzionalità più importanti di windows che andranno a scomparire è la funzione di riconoscimento vocale di windows questa qui che in questa macchina se non ricordo male non dovrebbe neanche già più partire perché non riconosce la lingua ma poco male perché verrà sostituita anch'essa dalle funzionalità intelligenti relative a copilot che si occuperà di coprire anche questo settore attenzione però ad un dettaglio questa funzionalità non va confusa con la dettatura vocale di windows quella che come abbiamo visto attiviamo tramite la pressione dei tasti windows ed h cioè questa qui che ci consente tramite un microfono di evitare di utilizzare la tastiera nel momento in cui vogliamo andare a digitare del testo all'interno di una qualsiasi casella di windows mi chiedo se anche tu sentirai la mancanza di qualcuna di queste funzionalità di windows quello che è certo è che microsoft sta premendo forte sull'acceleratore per spostare online tutto quanto il nostro lavoro come abbiamo visto e francamente mi trovo spesso a domandarmi se sia una cosa giusta o meno anche se dentro di me una rispostina ce l'ho ma sarà il tempo a dirci se la decisione di microsoft sarà stata saggia ed oculata o meno ma prima di concludere questo video ho dei graditissimi ringraziamenti da fare anche oggi che vanno a lorenzo paoletti per essersi riabbonato al canale e ad italo un nuovo abbonato a cui do il benvenuto a bordo inoltre una menzione speciale l'hanno sicuramente guadagnata i grandissimi davide barraco ed alessandro olmo che hanno contribuito con i loro super grazie alla vita della community quindi a nome mio e naturalmente di tutta la community stessa un grazie a tutti voi per il vostro supporto e soprattutto per la vostra amicizia e siamo giunti al termine ma come ben sai l'ultimo ringraziamento è sempre quello riservato proprio a te che mi hai fatto compagnia nel corso di questo video e di questi minuti e quindi non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima